Quattro spettacoli in due mesi e mezzo fra prosa, lirica e varietà. Questo è il programma per la primavera 2019 del Teatro Martinetti di Garlasco. Con piacere che il comune di Garlasco presenta la locandina per la stagione teatrale primaverile. Ci sembra di avere fatto un regalo a tutti i nostri utenti, variando abbastanza il palinsesto della nostra presentazione, della nostra offerta. La stagione primaverile comincia con sabato 23 febbraio, Gran Galà di Carnevale. Saranno grosse, grasse risate con delle scenette che ripercorrono la vita della Lomellina degli anni 50 con la compagnia Ami di Tromello. E all'interno un cameo con delle danze acrobatiche a cura della Urban Gravity Academy di Veronica Testa e Ambra Orfei. Dopo questo, sabato 22 marzo, ci sarà lo spettacolo Grazie Gaber di Walter Di Gemma. È uno spettacolo che ha avuto il tutto esaurito nei teatri di Milano nei mesi precedenti, proprio perché ha voluto ricordare il grande Giorgio Gaber che quest'anno avrebbe compiuto 80 anni. Il 16 di marzo ci sarà la prosa, una prosa leggera, una prosa spiritosa, una prosa accattivante, ma comunque diciamo che è uscita dalla penna di un grande come Oscar Wilde. E sarà il fantasma di Canterville della compagnia teatrale Il Mosaico e Le Tre Corde. Sabato 30 marzo andrà in scena Annabucco, prima delle opere liriche messe in cantiere per quest'anno. L'opera lirica ha organizzato a gennaio per il quarto anno consecutivo il concorso Arturo Pessina per selezionare le voci che saranno protagoniste della stagione operistica del Teatro Martinetti. La prima opera messa in scena sarà il Nabucco, il 30 marzo, ricordiamo l'orario 20 e 30, diverso dagli altri spettacoli. E poi l'associazione opera lirica per il secondo anno consecutivo crede nella diffusione dell'opera e nel far conoscere l'opera ai bambini, per cui proporrà l'elisir d'amore in due giorni a termine di maggio in collaborazione con la scuola primaria di Garlasco per tutti i bambini delle elementari. Tornando alla stagione primaverile, il cartellone si concluderà sabato 4 maggio con il curioso spettacolo Mutandine di Schiffon, quando il fonografo diventò pornografo. È un recital di Gigi Franchini con il pianista Paolo Marconi, dove si percorre le canzoni tra le due guerre, quelle un po' più allusive, quelle un po' piccanti, ma sempre con molta grazia e con molta signorilità. Ecco, i costi sono, diciamo, popolari, nel senso che tutti gli spettacoli costano 15 euro, ridotti e loggione 10 euro, a parte l'opera che ha un impegno economico e di lavoro che costa 20 euro.